Io penso che sia giunto il momento di ritrovarci, di ritrovarci in pubblico, di ritrovarci insieme, di trovare delle occasioni in cui ascoltiamo la narrazione dal vivo, non solo attraverso i nostri telefoni, i nostri smartphone che già ci isolano, che già ci separano dal resto del mondo, nei quali veniamo risucchiati, ma abbiamo bisogno proprio di stare all'aperto, di trovarci quasi come tribù, perché siamo tribali e quindi abbiamo bisogno di ritrovarci, di ritrovare il contatto con le persone, l'aria aperta, le serate, la narrazione, sono qualcosa che abbiamo perso, ma sto vedendo in giro per l'Italia che c'è grande bisogno di questo e quindi è giusto tornare alla narrazione orale dal vivo, sempre, sempre, sempre. Grazie a tutti.